Eh sì, siamo stati chiamati a casa perché noi abitiamo fuori e ci hanno detto che era tutta Lignano sott'acqua. Quale arriva lei? Veneto occidentale, quindi due ore di macchina e siamo qui. Abbiamo diciamo un 60 cm d'acqua, tutto rovesciato. Purtroppo succede, pare spesso negli ultimi anni e quindi niente, ci rimbocchiamo le maniche. Senta, chiaramente il danno è evidente perché tutto il materiale che era all'interno di questo garage, non solo ma anche in parte, vedo chiaramente poca roba si salva. La maggior parte delle cose che sono andate sott'acqua, soprattutto quelle elettroniche, sono da buttare. È anche l'occasione di buttare via un po' di roba vecchia. Cerchiamo di essere positivi in tutto ciò. E questo mi piace il suo spirito perché davanti a una cosa del genere vedo che comunque da parte sua c'è la voglia di continuare, questa è una cosa importante. Non possiamo fare altro, bisogna andare avanti. Secondo lei ha occhio il danno quanto potrebbe montare? Non ne ho assolutamente idea, abbiamo un frigorifero che è andato sott'acqua completamente, tanta roba vecchia, tanta roba nuova. Purtroppo non abbiamo una stima al momento.